Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere una performance a mio parere molto molto bella Vi ricordo che se volete acquistare queste magliette a shagilpas che me ne frega potete farlo contattandoci su facebook, instagram o telegram e mi raccomando direi MOSICA! Ok Grazie a tutti Grazie a tutti